ciao a tutti ragazzi come state bentornati in questo nuovo video allora oggi andremo ad unboxare il mio nuovo controller e più tardi vedremo anche un paio di novità allora questo controller qua è compatibile con tutti i dispositivi apple dall'iphone all'apple tv e la cosa bella è che 50 ore di autonomia andiamo a fare l'unboxing allora questo è il controller è della nimbus l'ho preso perché appunto è compatibile con tutti i prodotti apple perché gioco soprattutto dal computer e dall'apple tv e potrebbe essere divertente usarlo ed eccolo qua ok allora questo qua è il supporto per il telefono che dovrebbe essere inserito qua sopra poi dentro la scatola abbiamo le istruzioni e si può caricare da qua dietro le novità che volevo dirvi è che ho aperto un secondo canale dove prossimamente inizieranno uscire video di gaming soprattutto su apple arcade vi lascio il link al secondo canale giù in infobox così intanto potete iscrivervi vi ricordo di lasciare un like iscrivetevi commentate seguitemi su instagram e noi ci vediamo allo prossimo video ciao 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 ciao